...e ucciderli. Oh, finalmente siamo riusciti a mettere con sessione. Mangia 7 minuti, una merda per foto. Ah, ma c'è Jannau! Oh, hai Jannau! ...e c'è Jannau! ...e c'è Jannau! Un nuovo giocatore si è unito alla sessione. Oh! 700 point! Non male. ...e c'è Jannau! ...e c'è Jannau! Lui! Un giocatore ha lasciato l'assassione. ...duggio. Ohhhh, fregation. Oh Genao, no Genao, no Genao, no Genao Normal, first one Genao Vabbè dai ci ho provato E dai Genao, e lasciamela avelenare, madonna Ma che palla, ma chi è il Serbano? Il Serbano ha lasciato la sessione Eh, vabbè Per 175 punti ti ammazzano, per carità E dai Genao, però, porca puttana Eh, vabbè Un nuovo giocatore si è unito alla sessione Vabbè, che uombele un giocatore e ha lasciato la sessione eeeh ho sbagliato io ho sbagliato io devo aspettare per avere troppa fretta ma dove scappi? capirai se al secondo ci sono 10.000 persone dietro beh giustamente si ma adesso glielo faccio io lo scherzino glielo faccio io lo scherzino logo noi e va bene e dove è Jannau? oh porca troia è uscito vabbè il... non c'è la sua non c'è la sua un giocatore ha lasciato la sessione eeeh no questa non l'ho capita questa non l'ho capita veramente un minuto alterno fortuna che c'è il video si vabbè cioè è uscito dall'altra parte e l'ho trovato dall'altra 30 secondi alterno passante ucciso ha ha bellissima oh texanau oh texanau lol schermo nero, e io ho visto Yugo Noi camminare nel vuoto, anzato ah, non lo so beh, P52, butta via oh, e stiamo riscendendo, meglio così, meglio così, ah bene, e per questa volta è tutto credo che staccherò un pochettino, ah tra poco, thanks for watching vabbè, questa io la possiamo anche vuotare, ma... Caricamento Sessione no, basta, basta La sessione sta per cominciare e c'è rimasto, Yugo Noi voi Yugo Noi basta se se e se beccamo dopo non soltanto vedere ultimo non è stato precedente ah, che bello questo ordimento nascosta beh, pensavo di farne di più, sinceramente vabbè allora, il suo diventa mille e quattro, considerando che sono anche entrato dopo ma... no va bene, alla prossima ma ma ha incontro ma